In questa foto questa ragazza che è una grande artista, oggi è tra le braccia di Pippo Baudo. La televisione e il direttore radiofoto. Grande artista con Pippo Baudo movile, forse sarai in grado di riconoscerlo perché oggi sono 71 anni. La sua carriera è stata incredibile e non c'è nessuno che la conosce. Oggi un grande artista è quello che oggi è una delle donne più famose in Italia e oltre. È conosciuta sia nel mondo dell'intrattenimento che in quella della musica. Ne ha conquistati molti e ha iniziato a seguire le orme di suo padre che era un attore americano. Si è anche dedicata alla recitazione. Stiamo parlando di Romina Power. È una figlia dell'arte e anche lei ha deciso di andare su questo percorso. Le sembrava molto naturale in quanto erano già le precedenti della famiglia. Quindi il matrimonio con Albano l'ha reso ancora più famoso nel nostro paese. Ma va detto che Romina è molto famosa in tutto il mondo. Romina Power Muvile ha cantato canzoni che hanno reso la storia della musica italiana. Queste hanno avuto un successo unico e ancora oggi Romina e Albano volevano cantare le loro canzoni. Non solo in Italia con precisione ma anche all'estero. È davvero impossibile non sapere di chi stiamo parlando. Sotto ora. Tuttavia. Torniamo a ripercorrere quella che era la sua carriera. Dal suo debutto al matrimonio con Albano e poi fino ad oggi. Nel prossimo paragrafo troverai tutti i dettagli della vita di Romina Power. Devi solo continuare a leggere. Romina Power la carriera nato nel 1965 Romina Power si è trasferita in Italia quando ha 9 anni. Un giovane debutto di 13 anni nel film di Menage italiano e quindi ha iniziato la sua carriera. Come abbiamo detto. Inizia prima nel mondo della recitazione. Quindi nel 1966 il primo album quando gli angeli cambiano le piume. Nel 1969 ha partecipato alla barra del festival suonando una canzone di Albano. Acqua di mare. Quindi incide un altro disco e molte altre canzoni. Nel frattempo sposa il cantante Apuliano e i due avranno quattro figli Ilenia. Iari. Cristel. Romina Junior Yolanda. Il loro matrimonio termina dopo aver dovuto affrontare la scomparsa del loro primogenito. Carriera di Romina Power Movitele Ilenia in effetti è scomparsa nel 1993 e non hai più avuto. Notizie. Nel 1999 i due arrivano alla separazione. Anche se i due non sono più un paio continuano a collaborare e cantare insieme. Il pubblico vuole ascoltarli e per questo sono spesso sul palco insieme. Nel 2020 andarono al Sanremo Festival come ospiti. Ecco che hanno presentato la loro singola raccolta nel momento. Separato con Albano.